Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico 4 gennaio 2024 bitcoin 43.900 dollari in questo momento commentiamo insieme quanto accaduto tra ieri e oggi quindi dump e recupero di bitcoin guardiamo tre resistenze molto importanti che si trovano proprio in prossimità del prezzo attuale e per ragazzi guardiamo alcune meme coin che arrivano da nuovi protocolli e che potrebbero essere quindi promettenti per il prossimo bull market se vi interessa il settore delle meme coin in ultimo ragazzi ve ne porto una in particolare che potete minare direttamente voi stessi sul cellulare quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi trovate in descrizione dei referral link da utilizzare se voleste sostenere il canale Ragazzi iniziamo a guardare bitcoin sul time frame giornaliero ieri una importante candela bearish quindi dopo che abbiamo toccato il livello di resistenza numero 1 del mese di gennaio in zona 45004 veniamo rigettati per rimbalzare in prossimità del supporto del CPR quindi vedete chiaramente come bitcoin testa il punto di supporto del CPR del mese di gennaio con anche in confluenza questa linea rossa che è la media mobile dei 50 periodi e rimbalza trovando supporto da appunto il CPR in confluenza con la media mobile dei 50 giorni quindi solitamente quando vediamo i supporti orizzontali confluire insieme ai supporti dinamici solitamente si vede una importante reazione del prezzo così infatti è stato bitcoin rimbalza prontamente per poi salire di nuovo a 44 mila nella giornata di oggi quindi possiamo dire che fin tanto che bitcoin resta al di sopra di questa zona quindi la zona che va tra i 41 e 100 e i 41 e 9 possiamo dire che il mese di gennaio continua ad essere rialzista guardando poi invece questi tre livelli come vedete vi ho assegnato tre livelli di resistenza sono molto importanti e sarà interessante vedere come il prezzo fronteggerà questi tre livelli sto parlando del primo che è l'apertura annuale del 2022 46.200 dollari solitamente l'apertura annuale è un livello di supporto o di resistenza a seconda che il prezzo ovviamente lo approcci dall'alto o dal basso in questo caso dovrebbe essere resistenza abbiamo il primo livello in rosso che è il livello dello 078 di fibonacci di resistenza considerando il primo top del 2021 di aprile 47.006 il secondo livello invece intorno ai 50.000 praticamente 49.009 è lo 078 di fibonacci di resistenza considerando invece il secondo top quello di novembre 2021 quindi grandissima resistenza a mio avviso nella zona che va tra i 46.200 e i 49.009 solitamente bitcoin non riesce a violare questo livello al primo tentativo passiamo ragazzi poi invece alle meme coin come vi dicevo sono alcune meme coin che secondo me potrebbero essere promettenti in quanto arrivano da delle chain che sono nuove quindi sono meme coin costruite su delle blockchain nuove quindi nell'ottica che i progetti nuovi potrebbero outperformare quelli vecchi queste sono alcune meme coin che potrebbero avere un po di potenziale sono anche nuove e secondo me non ancora particolarmente conosciute la prima è sviluppata sulla blockchain di sui si chiama food o anche fad lo trovate su faddepag.com comunque vi linko in descrizione tutti i url di queste meme coin si tratta di un cagnolino e non c'è ovviamente molto da dire sulle meme coin perché non ci sono fondamentali ma giusto per farla breve si chiama food è interessante che ha un vesting period per quelli che sono i contributors per tre anni quindi fino l'interezza dei token verrà rilasciata fino a gennaio 2024 potete comprarla ovviamente interagendo con la blockchain di sui quindi vi serve un wallet di sui e lo potete prendere ovviamente su un dex di sui in questo caso per esempio turbo finance altre informazioni su fad interessante la comunicazione che stanno facendo su twitter ci sono 11.000 follower in questo momento comunicazione ovviamente che ruota intorno a questo cagnolino che fa insomma tutte le cose da meme coin il prezzo abbiamo 0.0602188 quindi un prezzo tipico da meme coin interessante la market cap sotto i 10 milioni quindi 9.3 milioni di market cap per fad appunto costruita sulla blockchain di sui seconda meme coin invece questa riguarda un gatto è la meme coin la prima meme coin sviluppata su beam vi ricordo che beam è una blockchain che si chiamava fino a qualche settimana fa mese fa merit circle praticamente focalizzata sul gaming e beam cat è la prima meme coin dedicata ad un gatto sviluppata sulla blockchain di beam infatti qua chiaramente dicono che mentre il 90 per cento delle meme coin sono un copia e incolla di altre essendo questa la prima su beam è diversa ovviamente dalle altre una supply tipica da meme coin quindi 420 trillion e le potete comprare ovviamente interagendo con la blockchain di beam tramite un beam bridge e tramite anche bim swap quindi anche qua dovete comprare bim e poi su apparla su appare b cat si se non sbaglio si chiama b cat per bim vediamo che invece su twitter abbiamo 874 follower quindi veramente sconosciuta bim cat e invece come market cap abbiamo anche qua vedete prezzo da meme coin e una market cap solo di 4 milioni punto 2 quindi una market cap più bassa rispetto a fad di sui terza meme coin invece costruita questa sul su injective protocol anche questa dice di essere la prima meme coin costruita su injective protocol si tratta di un cane ma un cane con dei nunciaco infatti si chiama ninja è un cagnolino che ha dei nunciaco su su injective protocol quindi anche qua per comprarla dovete interagire con la blockchain e gli strumenti di injective in particolare lo trovate su astroport che il se non sbaglio il dex di injective protocol vediamo il prezzo qua un centesimo praticamente due centesimi molto nuovo uscita il 15 di dicembre una market cap questa volta di 17 milioni quindi tra le tre che abbiamo visto è quella più capitalizzata quindi potenzialmente la minore opportunità per ninja su injective protocol vediamo l'account twitter a 18 mila follower e fanno anche loro ovviamente comunicazione legata a il ninja su injective quindi sempre molto carino interessante ragazzi in ultimo vi porto questa meme coin che invece arriva dal progetto di ton coin quindi la coin di telegram infatti è ton coin scritto al contrario si chiama not coin ed è un progetto direttamente seguito proprio dagli sviluppatori di ton coin se non sbaglio ed è una coin con cui potete fare mining quindi potete minare direttamente voi questa coin sul cellulare facendo tap sullo schermo quindi più voi cliccate sullo schermo effettivamente è strano ma è così più voi andate a minare questa not coin potete trovare un referral link in descrizione quindi un invito in descrizione per partecipare anche voi al mining di questa not coin il contrario di ton coin esattamente come analos era il contrario di solana una meme coin che ha recentemente diciamo fatto parlare di sé sulla chain di solana vedete che è interessante se utilizzate l'applicazione quindi seminate not coin prima del 7 di gennaio avrete un bonus qua dicono di un milione di not coin successivamente al 7 di gennaio in ultimo ragazzi sempre su not coin che come vi ricordo potete minare gratuitamente tramite un link che vi metto in descrizione qua dicono che per adesso tutti possono minare not coin ci sarà una distribuzione fair quindi equa non ci sono insider né investitori ma al 100% verrà distribuito nella community e quindi sostanzialmente più interagite con not coin più portate valore all'ecosistema not coin più verrete diciamo premiati appunto in token quindi fatemi sapere cosa ne pensate io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao